Sono Giorgia Ballondi e sono un'artista, faccio sculture in mosaico. Sono venuta a Conoscenze di Alimento quando Patina l'ha pubblicato sul gruppo di Wine Connection e ovviamente ho deciso di partecipare appena, appena, appena saputa la notizia che sarebbe stato festaglia. Perché ho già frequentato il corso a Santiago l'anno scorso e durante il viaggio ho lavorato molto su me stessa e sono tornata a casa che ero completamente cambiata e quindi ho capito che lavorare dal vivo con Patrizia è sicuramente un'esperienza che non volevo perdermi perché sapevo che ci stava altro lavoro da fare e quindi sono qui. È cambiato o meglio è migliorato ancora di più quello che sono riuscita a contenere in questo anno di percorso intensivo fatto con Patrizia quindi alla fine sono riuscita ad andare ancora più a fondo e a tornare a casa con un bagaglio di consapevolezza e di fiducia in me stessa ancora più potente rispetto a quando ero arrivata. Mi porto a casa sicuramente la voglia di andare avanti anche quando incontro le difficoltà quindi avere il coraggio di seguire quella che sono, quella che sono anche il mio sogno e quindi sicuramente di farmi conoscere in tutto il mondo senza paura. Tutto quello che ho scoperto e ho preso qui in questi giorni lo porterò nella mia vita semplicemente applicandolo che non è tanto semplice come sembra però aver capito come poter fare i primi passi senza bloccarmi su cose molto grandi quindi quello che mi porto a casa è fare il passo passo per compiere concretamente la realizzazione dei miei sogni. Questi passi hanno già trasformato la mia vita, sto solo semplicemente portandoli avanti in maniera più convinta perché poi le nostre paure ogni tanto tornano a bussarci alla porta tutto quello che mi porto qui può trasformare la mia vita sicuramente anche nella mia vita familiare nella mia vita delle persone che mi circondano, non solo della famiglia intesa come marito e figlia ma anche tutto quello che io vivo come le mie amicizie che sono la mia famiglia quindi sicuramente un modo diverso di approcciare e modificare la mia realtà essendo io in pace con me stessa e riconoscendo i miei talenti, i miei valori mi rendo conto che questo si rispeccherà in maniera sicuramente positiva in tutto quello che è la mia vita prossima, quella più vicina a me la mia vera realtà, quella che vivo quotidiana non sarà mai più come prima la Giorgia che non si permetteva di credere nei propri sogni quindi ho imparato a capire che quello che mi fa star bene non è che non sia realizzabile ma semplicemente come io ho il coraggio di affrontare questa mia grande passione la mia voglia di vivere, la mia voglia di essere Giorgia la parola singola io definirei questo evento esplosivo ecco volevo dire un grazie a Patrizia per tutto quello che ogni volta mi fa scoprire perché riesci sempre a trovare il punto giusto su cui farti lavorare e come sempre ringrazio anche il vicino che sta dietro alle quinte che ha organizzato questo evento praticamente in maniera stupenda ci ha fatto vivere delle esperienze fantastiche io quindi avevo dormito in un posto bellissimo hanno fatto un ottimo lavoro oggi grazie buon giorno, ci vediamo buon giorno, ci vediamo